Questa nazione ce la farà, ce la farà ad uscire da una crisi profonda ereditata da un governo di sinistra che ha governato per dieci anni questa nazione e che oggi viene qui a darci delle lezioni. Perché il problema qui non è il salario minimo che è uno spot radical chic, il problema qui è guardare la realtà e la realtà ci dice che il salario può aumentare solo ed unicamente se si taglia il cuneo fiscale. Perché in questa nazione la tassazione è del 47,5%. Quindi la signora che ci sta guardando, che in questo momento ha la bolletta da una parte che la guarda e dice mi devi pagare, dall'altra parte apre il frigo e dice caspita devo andare a fare la spesa e questo mese grazie al governo Meloni avrà una pensione minima un po' più alta che le permetterà di pagare una pizza ai nipoti o anche a fargli un regalino. Deve sapere che le ricette che mette in campo il governo Meloni sono ricette di realtà. Perché dice che il salario minimo è uno spot radical chic? È uno spot vecchi semplicemente perché arrivano qui dopo dieci anni e dicono quello che noi dobbiamo fare. Quindi io chiedo per un amico ma perché non l'hanno fatto fino ad oggi? Uno. Due. E glielo spiego io perché non l'abbiamo fatto. Il problema serio. Non mi interrompa Misiani. Uffa. La seconda cosa che è la più importante è che per alzare gli stipendi bisogna tagliare il cuneo fescale.